ciao ciuruspi anche se dal titolo di questo video possiamo fare una provocazione in realtà non lo è volevo solo farvi capire meglio l'essenza di questo canale perché a quanto pare qualcuno non l'ha capito come ben sapete anche se ultimamente sono stato un po assente su questo canale diciamo che vado un po periodi io adoro fare video io non ho mai ricevuto un centesimo da youtube questo per me è un vantaggio perché mi permette di realizzarli come più mi piacciono senza essere vincolato da qualcos'altro da dover seguire le masse eccetera 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 sì lo so il mio canale è un po un pupuri ma perché io dopo un po mi rompo un po le scatole di fare lo stesso tipo di video ma questo ha un altro vantaggio il fatto di avere una nuova idea su qualcos'altro e creare qualcosa di più creativo ma ora veniamo al punto seguitemi un attimo da questa parte che vi faccio vedere una cosa scusate prendo un attimo l'ascensore per arrivare al punto siamo arrivati ecco queste cose qua ad esempio nella vita reale non si possono fare non posso prendere l'ascensore nella schermata di youtube volevo farvi vedere questi due commenti di queste due persone matteo f e cuore alpino mi hanno criticato giustamente le critiche io le accetto ben volentieri e mi hanno detto che questa persona che ha introdotto anna paola sarebbe la mia ragazza non è in grado di parlare italiano non parla abbastanza bene da non poter fare un video a titolo informativo prima di tutto penso che queste due persone non l'hanno visto tutto o credo perché io le informazioni o le mie opinioni o meglio le ho date ci sono tutte se ad esempio saliamo un attimo scusate prendo l'ascensore vado su qua c'è la schermata del video la facciamo scorrere un po più avanti ancora un pochettino qua io continuo a parlare dopo il momento in cui anna paola ha introdotto super mario maker ha detto cose semplici si possono capire benissimo ho voluto aggiungere lei per rendere il video un po più divertente questo è per dirvi che se non vi piacciono i video che faccio pazienza io quando ne realizzo uno cerco di fare in modo che piaccia io penso se piace a me piacerà sicuramente qualcun altro volete vedere i video sempre fatti nello stesso modo allora seguite qualcun altro guardate i video di qualcun altro non è non mi sto lamentando del fatto che ci siano persone che dicano e commentano in questo modo solo sto dicendo così perché penso che magari qualcuno non ha capito il modo in cui voglio realizzare i miei video voglio distaccarmi completamente per qualcosa di originale diverso almeno ci provo e non omologarmi gli altri grazie per la visualizzazione vi invito ad iscrivervi cliccando qua se vi piacciono i miei video ovviamente e cliccare sulla campanellina per far sì che non vi perdiate più nessun altro video che caricherò qua su youtube e a presto iscriviti iscriviti ora se non l'hai già fatto subscribe subscribe now ah date anche un'occhiata la mia pagina facebook se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video e se volete avere dei maggiori approfondimenti approfondimenti